Volete vestire i panni del luffi nero presente nel 14esimo starter? State cercando una profile che possa dire la sua in un torneo locale? Di quali carte avrete bisogno per formare una ciurma ben equilibrata che possa supportare le gesta di cappello di paglia durante un match? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Pochi giorni fa è finalmente giunto sui nostri tavoli da gioco il 3 Days 2 Years che vede l'arrivo anche di una nuova meccanica di gioco che prima d'ora non si era mai vista l'aumento dei costi dei caratteri alleati. Per scoprire il contenuto del prodotto in questione troverete il video dove ne ho parlato qui. Il deck infatti favorirà sia l'aumento dei costi grazie allo stesso leader e allo stage che vedremo fra poco cosa combineranno assieme e la distruzione dei personaggi rivali attraverso la dinamica comune ad ogni nero presente in meta. Questo luffi inoltre avrà un effetto simile allo zoro pubblicato nel primo starter deck della storia del gioco e se si riuscirà a mantenere attiva la condizione del proprio effetto andrà a dar fastidio alle dinamiche strategiche di chi vi giocherà contro. Nel video di oggi perciò andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendo le caratteristiche che lo renderanno interessante nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del personaggio principale dell'opera del maestro Oda. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Luffinero. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5000 punti di forza e 5 vite a supporto vi permetterà assegnandogli un singolo don di aumentare di un'unità il costo di ogni personaggio sotto il vostro controllo e di incrementare di ulteriori 1000 punti la sua forza fino alla fine del turno avversario se sarà presente un character alleato con costo pari ad 8 o superiore. La decklist in questione sarà un mix tra le due dinamiche che caratterizzano questo colore e vedrà il quartetto di Rebecca, Brooke, Hina, Perona, Nico Robin, Sabo, Luffy costo 5, Moria e Sanji assieme al trio di Zuru e del Meppo con la singola copia di Shiraoshi e Luffy costo 8 per la parte character, il duo di Gangnam Diabletree Sword Style, Motenjack 600 Pound, Phoenix Cannon per il settore event e le quattro unità di Thousand Sunny che chiuderanno sia il comparto stage che questa profile. Le carte cardine del mazzo saranno di sicuro le Rebecca per portare di nuovo a disposizione la quasi totalità del deck, i Brooke per mettere sempre sotto scacco ogni personaggio avversario, le Nico Robin che risulteranno molto pericolose soprattutto in mid-late game, i Sabo per la loro capacità di salvaguardare ogni pezzo in campo da eventuali distruzioni da effetto, i Moria perché semplicemente sono i Moria, i Sanji SR che solamente assegnando un donna al leader innescheranno i loro effetti e le Stage che non solo aumenteranno il costo di ogni straw hat di uno, ma vi permetteranno anche di pescare una carta appena entreranno in campo. Mentre il resto, come le Tsuru, gli El Meppo, le Ina, i Luffy del medesimo starter del leader e di OP07, assieme agli event, forniranno supporto sia in fase difensiva che soprattutto offensiva. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra la stessa Rebecca ed ogni costo 3 presente nel deck, dove i nomi di Brooke e gli appena menzionati, Ina e El Meppo, vi consentiranno di incidere fortemente sulle presenze rivali, togliendole di mezzo una volta per tutte. In più, se utilizzerete la combinazione Moria e la sempre presente Rebecca, di sinergia ne potrete utilizzare a Iosa, dando la possibilità all'intero insieme che giocherete di piazzare pezzi in campo e dallo stesso momento smantellare la borda nemica. E a proposito di smantellamento, i Luffy di OP07, quando attaccheranno, grazie anche alla manforte dei diversi riduttori presenti nella lista, andranno a togliere di mezzo anche i colossi più ostici, bersagliando con il loro effetto chiunque avrà due come costo di giocata totale. Ultimo, ma non per importanza, vedrà l'utilità della stage, che personalmente reputo una delle più forti attualmente in gioco. Per un semplice motivo, averla in mano non rappresenterà una carta morta, ma una possibilità di pescare una carta aggiuntiva dal deck e i due event che, a costo 2, aumenteranno di ben 3000 punti la potenza di un vostro leader o character durante la fase principale, distruggendo un costo 2 rivale se sarà presente in campo un costo 8 alleato. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Ragionate per bene prima di fare ogni mossa. Questo è un mazzo combo e come tale richiederà una serie di passaggi mentali che dovranno essere svolti prima di metterli in pratica. Ricordate che, se sbaglierete anche di un solo don nel vostro disegno matematico, vi ritroverete all'improvviso dover rincorrere l'avversario, perdendo il vantaggio strategico che invece dovrà essere sempre a portata di mano. Inoltre, non avrete sercini o carte che vi andranno a facilitare, ma semplici motori di pescata e giocate provenienti dal cimitero. Non abbiate paura di privarvi di un pezzo fondamentale durante la fase di counter. Con Rebecca e Moria potrete recuperarli impiegandoli, magari, in un momento più cruciale del match. Per la fase offensiva avrete a disposizione praticamente il buon 90% del mazzo. Infatti, a parte i counter più 2000, per una esclusa, le Rebecca e grazie anche al supporto degli event, tutto ciò che pescherete sarà volto o a diminuire costi o spaccare cose. Per quella difensiva, gli stessi più 2000, per una inclusa e le stesse Rebecca assieme a Sabo, andranno a fornire quel muro che sarà difficile superare, soprattutto nel mid-game. Trattando invece l'argomento mano iniziale e le carte must-have da avere saranno di certo una Stage, un Brook, un Sabo o Rebecca, una Perona ed un Sanji. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, dovrà essere chiaro che questo non sarà un mazzo top tier, o non ancora per il momento, ma non temerà confronti in ogni caso, tenendo conto che, grazie alle sue duplici funzioni, potrà allo stesso tempo tenere di mira le fila rivali e potenziare le proprie. I più indicano Luffy come l'Antinero e devo dire che Controluci in particolare dà molto fastidio, dato che per la maggior parte delle volte il membro della CP0 dovrà impiegare un paio di risorse e non più una per toglierci di mezzo dei character. Per tutto il resto ve la giocherete, come sempre soffrirete gli aggro e gli zoo, quindi l'O, che fra un po' non sarà più un problema, e ogni tipologia di rosso che partirà forte. Per la win condition dovrete dapprima tenere a bada ogni fonte offensiva avversaria, per poi azionare l'innesco combo del deck, dando la possibilità anche al leader di usufruire appieno del proprio effetto. Una volta che le minacce rivali verranno sventate, potrete volgere lo sguardo verso le vite di chi vi giocherà contro, andando ad erodere passo dopo passo ogni singola risorsa che disporrà nei turni a venire. Procedete con calma, i combo hanno bisogno di tempo, concedeteglielo e vedrete che non ve ne pentirete. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno Rebecca, i Moria, i Brook, le Nico Robin, i Sabo, i Sanji e le Stage. Questa lista l'ho provata più volte e devo dire che è la più equilibrata al momento, ma sono certo che si può migliorare e anche di molto. Alcuni giocano versioni con Kuzan a costo 10, ma personalmente non mi ci sono ritrovato. Una volta spesi 10 don, non si potrà fare più nulla, neanche attivare l'effetto leader. Quindi ho optato per massimo un costo 8, così da darmi la possibilità all'occorrenza di correre ai ripari, avendo ancora risorse libere da utilizzare come meglio credevo. Desideravo più libertà di movimento, tutto qui. Testate da voi però per scoprire quale versione si adatterà maggiormente alle vostre esigenze. Infine, per la fase counter avrete a disposizione 23 più 1000 e 8 più 2000, che in presenza dell'abilità di cappello di paglia vi salvaguarderanno anche da attacchi da 6-7K, quindi cercate di tenerla sempre attiva. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Luffy preferisce partire per secondo, per una singola ragione. Avendo diversi costi dispari che interagiranno con il costo, assegnare un don al proprio leader, magari anche con la presenza della Sunny sul terreno, darà vita agli effetti di Sanji in modo naturale. Mentre se partirete per primi, potrete tenere in seria considerazione una Robin al posto del cuoco da tenere in mano in fase iniziale. Concludendo, Luffy del quattordicesimo starter vi fornirà un modo del tutto innovativo di approcciare il TCG di One Piece. E sono certo che, con il passare dai set futuri, anche questa versione del capitano più celebre dell'intera opera ideata dal maestro Oda potrà dire la sua piazzandosi ai piani alti della tier list. E voi avete già provato le dinamiche che muovono il deck di cappello di paglia? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.